Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignan. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana. Infipili i possibili disagi per lavori tra Ginestra e Montelupo in direzione Mare. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. Ricordiamo che a Firenze tutti i giorni i mezzi tramvia ATAF e fermate vengono sanificati e igienizzati. Un'attività per garantire lo spostamento in sicurezza di chi deve muoversi usando il trasporto pubblico. Via di Scandiccia a Firenze è chiusa per lavori connessi alla realizzazione della nuova viabilità Nenni-Torregalli dal lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio tra il numero civico 331 e via di Torregalli. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!